23 anni e questa è la distanza di tempo tra l'ultima Vellino Nola e quello di stasera. Infatti il precedente incontro al partenio Lombardi tra le due formazioni risale al 12 marzo 1995. I bianco-verdi si imposero con il risultato di 2-1 in rimonta grazie ai gol di Pro Vitali e Fresta dopo il vantaggio bianco-nero di Belotti con gli Irpini che al termine del campionato brindarono alla promozione in B. I bianco-neri sono reduci dalla robuante vittoria ai danni del Francavilla in Zinni per 3-0. L'irpino Stefano Liquidato, tecnico dei Buriani, baianese di nascita ed ex calciatore della primavera bianco-verde sarà privo di Scilzo e Mocerino squalificati e schiererà i suoi uomini con il 4-3-3. Tra i pali l'ex bianco-verde Gragnaniello che in Irpini ritroverà i compagni Sforzini, Ciotola e Devena. Difesa a quattro composta da Yander, Paradisone e Varriale sugli esterni ed il duo Pepex, Cervinare e Lenci in mezzo, in mediana Colarusso, Olivieri e Vaccaro, linea d'attacco con Gennaro Esposito in mezzo e il Biavitagli a Monte a destra, a sinistra ballottaggio a tre tra Sara e Mazzo, del Prete e Stoia.